Quattro di attività, ma con grandissima nonostra, cosa manca ancora? Credo che la cosa che manca è la riuscita, i momenti importanti della partita, che dobbiamo sbagliare e che magari dobbiamo usare più la testa e fare dei palloni. Cioè, comunque usare più la testa, quindi vi vedo che in posto è questo il problema di adesso. Hai parlato di momenti importanti, però il primo set ha subito stato molto difficile da voi. Avete faticato ad entrare in partita? Sì, diciamo che un conto fondamentale non sono andati benissimo. Forse sono andate con un po' di timore, un po' di... Anche in poca difficilità fino all'inizio e... E questo è stato un problema. Forse... Ho avuto i menti fantasmi, recuperate per chi non ha mai, quindi... Poi hai fatto le straordinarie eccezioni oggi in difesa. Però sei entrata meglio nella partita anche in attacco, mi sembra oggi. Ti sei sentita più, senta meglio il campo. Sì, mi sono sentita meglio, con fortuna. Dopo tanto, insomma, ho ritrovato un po' di scuola, e ho fatto un po' di freddo, un po' di freddo, un po' di scuola, quindi... È andata bene così e spero di... che non ci sia l'ultima volta. E' un po' di scuola. Quindi, in una realizzazione vostra, il progetto quest'anno, parliamo di una realizzazione a due, di un po' di forza storia, adesso c'è questa situazione per l'indarro Ottolani, con due grandi... Beh, io credo che... ci sia rimasto ancora il nostro futuro, un po'. Il fatto che comunque, l'indarro Ottolani, perché magari, ha andato delle volte con... il suo valore, se c'è una solità che Serena ricevi, l'interventa, e... stasera cosa viene così. Grazie.